Ritrovate ieri dai carabinieri di Caramontegulfi le due gemelle minorene di Ragusa che si erano allontanate da casa. Hanno ammesso davanti agli inquinenti di essersi allontanate volontariamente. Controlli antidroga nelle scuole della provincia Iblea già da giorni sono iniziati controlli in alcuni istituti scolastici di Ragusa Superiore da parte della Polizia di Stato col supporto di unità cinofile. No agli allarmismi sulla carne rossa lo ribadisce la situazione Macellai di Ragusa e uno degli alimenti dicono più controllati e sicuri e gli operatori del settore sanno con consigliari i consumatori. Illegalità dilagante al mercato ortofrutticolo di Comiso alla denuncia dell'onorevole Giorgia Senza dopo la violenta aggressione due giorni fa che si è consumata all'interno della struttura mercatale. Sul fenomeno randagisma Vittoria interviene all'assessore Francesco Cannizzo come assessorato alla tutela animale dice che stiamo facendo tutto il possibile e anche off e monitorando ogni situazione. Benvenuto a un nuovo appuntamento su Eventi Sicili, allora la cronica in apertura finalmente ritrovate dai carabinieri di Chiara Montegulfi, le due gemelle minorene di Ragusa che si erano allontanate da casa. Le due hanno ammesso di essersi allontanate volontariamente. Alla fine per fortuna tutto si è risolto per il meglio. I carabinieri della stazione di Chiara Montegulfi hanno rintracciato nella tarda mattinata di ieri due minorenni gemelle che si erano allontanate da casa volontariamente mercoledì scorso da Ragusa. I loro genitori si erano presentati verso le ore 21 di mercoledì all'ufficio denuncia della questura di Ragusa raccontando che le due figliolette erano uscite da casa nel pomeriggio senza farvi più rientro. La nota di ricerca veniva diramata a tutti gli organi istituzionali e anche l'arma dei carabinieri si è attivata con diverse pattuglie, sondando gli ambienti giovanili e monitorando non solo le stazioni ferroviarie ma anche quelle degli autobus di linea. Inizialmente le ricerche nei luoghi solitamente frequentati dalle due non avevano sortito alcun positivo effetto e familiari e amici riferivano di non sapere nulla. Le ricerche, proseguite ininterrottamente per tutta la nottata e continuata nella mattinata di ieri, hanno permesso poi di ritrovarle. Una pattuglia di Chiara Montegulfi in servizio nel comune montano le ha infatti riconosciute mentre passeggiavano lungo Corso Kennedy. Le adolescenti, immediatamente condotte negli uffici della caserma di via Alcanata, sono state subito ascoltate dagli investigatori per verificare che non fossero state costrette ad allontanarsi o aiutate da qualcuno durante la fuga. Appurate le buone condizioni fisiche e di salute, escludendo che avessero subito violenze, sono state riaffidate ai genitori. Pare che le ragazze si fossero allontanate per passare qualche ora con i propri innamorati e che siano state ospitate dalle famiglie di questi ultimi che, a quanto pare, non avevano idea che le ragazze fossero scappate di casa. Si chiama Fumo dai Fori, l'operazione condotta dalla Guardia di Finanza nel territorio di Vittoria. Le indagini hanno permesso di sgominare una banda italo-maghebrina dedita alla produzione allo spaccio di stupefacenti. Dalle prime ore dell'alba, circa 40 finanzieri del Comando Provinciale di Ragusa, con l'ausilio di unità cinofile, hanno eseguito sei ordinanze di misure cautelari emesse dal GIP di Ragusa, Claudio Maggioni, su richiesta del PM Getano Scollo, nei confronti di altrettanti soggetti accusati di associazione a delinquere, finalizzata la detenzione dallo spaccio di stupefacenti. I provvedimenti restrittivi, unitamente a 10 perquisizioni domiciliari, sono stati disposti al termine di una complessa e articolata indagine, coordinata dalla Procura di Ragusa e condotta dagli investigatori del nucleo Polizia Tributaria, che hanno individuato e stroncato un'associazione criminale dedita allo traffico di stupefacenti. L'organizzazione, composta da soggetti pluri pregiudicati, operava maggiormente su piazza di Vittoria e di Interland, rifornendo i pusher, soprattutto di Ashish. Le indagini, durate circa un anno, sono state eseguite con pedinamenti, ripresi video, captazioni delle comunicazioni sui cellulari e con ascolto delle conversazioni tra i presenti, con l'ausilio di microspie ambientali. In campo anche interpreti di madrelingua, dato che gli organizzatori del sodalizio criminale sono di origine nordafricana. Le fiamme gialle hanno stimato che l'organizzazione aveva la potenzialità di acquisire, detenere e smaltire non meno di un chilogrammo di Ashish a settimana, acquistato soprattutto da giovani, spesso minorenni, appartenenti a classi sociali agiate. L'operazione è stata denominata Fumo dai Fori, poiché il gruppo utilizzava spesso dei buchi ricavati in fabbricati fatiscenti che insistono nel centro storico di Vittoria come nascondiglio della droga. Le misure cautelari sono state disposte nei confronti di sei persone, Munir Benziamid, 43 anni, algerino, Tarak Benbrahim, tunisino di 38 anni, Walid Slimani, tunisino di 38 anni, attualmente rinchiuso al carcere di Piazza Armerina, Abdelhamid Amied, algerino di 56 anni, attualmente ristretto al carcere di Gela, Carmelo Zisa, 44 anni, residente a Vittoria. La misura dell'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria è stata applicata invece ad una 22enne, residente a Vittoria. Benbrahim, tra l'altro, era già stato arrestato lo scorso gennaio per detenzione ai fini di spaccio ed espulso dal territorio nazionale, in quanto sospettato di legami con cellule inserrezionali giadiste. Lo stesso, infatti, fu trovato in possesso di manoscritti appuntivari, dalla cui traduzione è emerso l'inneggiamento al martirio. Un romeno di 37 anni è stato arrestato dalla polizia di Vittoria, all'uomo che era stato intimato l'alta di un posto di blocco, invece di rallentare la marcia, è fuggito, dando vita ad un pericoloso inseguimento. Era la guida di un'autovettura e alla vista del posto di controllo della polizia di Stato anziché rallentare ha accelerato, tentando una pericolosa fuga. Ne è nato un inseguimento durante alcuni minuti e parecchie sono state le situazioni di grave pericolo per l'incolumità anche di altri automobilisti, create dall'uomo, dal momento che, pur di sfuggire al controllo, ha guidato in modo spericolato e ad altissima velocità, tanto da perdere poi il controllo del mezzo ed urtare un muro a secco dopo aver imboccato una strada interpoderale di contrada Pozzo Bollente. Protagonista, Calim Vasile, romeno di 37 anni, pluripregiudicato, è attualmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di Vittoria, poiché è ritenuto soggetto dall'alta pericolosità sociale. Bloccato dagli uomini del commissariato di polizia di Vittoria, l'uomo è stato condotto in commissariato e dichiarato in arresto per aver violato le prescrizioni imposte dalla misura di prevenzione, per aver guidato senza patente, mai conseguita, e per resistenza pubblico ufficiale. L'autorità giudiziaria del capoluogo ha disposto che l'uomo venisse condotto nella sua abitazione, dove dovrà rimanere in stato di arresti domiciliari. Il veicolo sul quale viaggiava è risultato senza numero di telaio, le targhe apposte di un altro veicolo e il mezzo era senza copertura amministrativa. Le indagini, inoltre, porteranno ad un'ulteriore denuncia per ricettazione a carico dello stesso Calin. A Scicli, invece, una giovane è stata salvata dai carabinieri. La ragazza aveva appena inviato un sms preoccupante ad un'amica e questa ha subito chiamato i militari. I carabinieri della tenenza di Scicli sono intervenuti nel pomeriggio di ieri in un'abitazione dove era stata segnalata una ragazza che aveva assunto un mix di medicinali. Infatti, poco prima, un'amica della giovane aveva ricevuto un messaggio preoccupante da quest'ultima e dunque ha immediatamente chiamato la centrale operativa dei carabinieri segnalando al 112 la situazione. I militari dell'arma hanno subito raggiunto l'abitazione della giovane ragazza e una volta all'interno hanno accertato che questa aveva assunto un cocktail di farmaci ed era in forte stato di agitazione. I carabinieri hanno subito soccorso la giovane che successivamente è stata trasportata all'ospedale maggiore di Modica da un'ambulanza del 118. Qui è stata sottoposta alle cure del caso ed è ancora ricoverata per accertamenti. Intanto i carabinieri stanno cercando di ricostruire i motivi del gesto per il momento sconosciuti. Hanno preso il via anche quest'anno i controlli antidroga nelle scuole della provincia. Nei giorni scorsi, infatti, sono iniziati i controlli in alcuni istituti scolastici superiori di Ragusa in campo alla Polizia di Stato. Al via i controlli finalizzati a prevenire e reprimere il fenomeno dello spaccio e dell'uso di sostanze stupefacenti negli istituti scolastici ad opera dell'ufficio volanti della Questura di Ragusa. L'azione preventiva, frutto della continua e fattiva collaborazione dei dogenti e dei dirigenti scolastici, ha interessato il controllo all'interno di due istituti superiori di Ragusa. Il servizio è stato dispiegato dal presidente della sezione volanti e dalle unità cinofile provenienti da Catania. In particolare il cane poliziotto Alan ha passato al setaccio bagni, giardini e luoghi di ritrovo all'interno degli istituti, oltre ad alcune aule scolastiche. La collaborazione degli insegnanti e degli alunni dimostra che l'obiettivo di scongiurare il fenomeno dell'assunzione o dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno delle scuole è comune. Successivamente il controllo è stato esteso all'esterno e alle zone limitrofe all'accesso negli istituti. Al termine del controllo nessuna traccia di sostanze stupefacenti è stata intercettata dal cane poliziotto. Dalla Questura fanno sapere che le attività naturalmente proseguiranno anche nei prossimi giorni per assicurare un tranquillo ambiente scolastico. La Polizia di Stato inoltre ricorda che è attivo un numero al quale denunciare episodi di bullismo e di spaccio di droga. Basta inviare un sms al numero verde 43002 scrivendo il nome della provincia e del luogo in cui si è verificato l'evento. Giudiziaria, una mezza dosina di richieste di giudizio abbreviato, tra cui quella per uno degli imputati di spiccole che si fa lamentare in Ocenso Liontini, poi la presentazione delle eccezioni preliminari che saranno decise dal giudice entro il 25 novembre, la costituzione delle parti, le contestazioni della difesa sulla consulenza tecnica a suo tempo effettuata. Si riassume così la prima udienza preliminari ieri presso il Tribunale di Ragusa, scaturita dall'operazione Guido Tarsilli sulla presunta maxitruffa all'Inps sui falsi invalidi. 112, come hanno noto gli imputati, da cui spiccono appunto il già citato Liontini e all'altro ex parlamentare regionale Riccardo Minardo. Il procedimento è stato calendarizzato in cinque udienze spalmate tra il prossimo novembre e i mesi di gennaio-febbraio-marzo 2016, durante i quali saranno interrogati diversi testi. No agli allarmismi sulle carni rosse, la situazione in Macellà di Ragusa scende infatti in campo a difesa dell'alimento, definendolo uno dei più controllati e sicuri. I Macellà inoltre danno qualche consiglio prezioso ai consumatori. L'effetto allarmismo derivato dalle affermazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha inserito le carni rosse lavorate fra le sostanze che possono causare il cancro, preoccupa Confcommercio Ragusa e l'Associazione Macellai di Ragusa. Lo dice il presidente dell'associazione, Giorgio Cafiso, che aggiunge, una simile affermazione non ponderata è assolutamente negativa rispetto all'attività di diverse centinaia di imprese iblee. Negli ultimi mesi Federcarne ha avviato una campagna di informazione verso i consumatori sulle qualità della carne rossa, sulla base di una ricerca statunitense redatta dalla Penn State University, che in sintesi afferma che le carni rosse fanno bene alla salute per le sue caratteristiche, soprattutto perché la carne oggi è uno degli alimenti più controllati e sicuri. Inoltre, cosa più importante, aggiunge, è il ruolo del macellaio che tutela la nostra salute, perché sa consigliare il consumatore sui tagli da utilizzare, sui metodi di cottura e lo indirizza verso un consumo consapevole. Fra i consigli dei macellai, la carne va mangiata una o due volte a settimana, una carne scura non è sinonimo di carne non fresca, la cottura al barbecue potrebbe essere quella più nociva, la carne deve essere cotta delicatamente, non diventare nera, altrimenti fa male. Rispettare tutti i passaggi e le regole della catena del freddo, l'ideale sarebbe comprare la carne e consumarla il giorno stesso, il tempo massimo di conservazione è un giorno, se già si sa che non si consumerà entro i due o tre giorni è meglio congelarla. Una buona carne sempre rapportata al suo prezzo, è fondamentale mangiare ogni giorno tanta frutta e verdura. L'associazione inoltre spiega che il macellaio del negozio sotto casa è in grado di dare preziose informazioni sull'animale, come stato nutrito e la zona di provenienza. In ogni caso aggiungono, le carni rosse al dettaglio del nostro macellaio di fiducia, se consumate secondo le regole suggerite dagli operatori del settore, non arrecano danni alla salute, anzi, come riportato nello studio americano, fanno bene. Illegalità dilagante presso il mercato ortofrutticolo di Comiso e la denuncia dell'onorevole Giorgio Assenza in riferimento al recente episodio di violenza di alcuni giorni addietro all'interno della struttura. L'episodio di violenta aggressione che si è verificato due giorni fa all'interno del mercato ortofrutticolo di Comiso è grave, quanto inquietante. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia, Giorgio Assenza, che in veste di consigliere comunale ha presentato un'interrogazione al sindaco spatare e all'assessore competente. Al di là del deprecabile episodio continua assenza, da tempo all'interno del mercato di Comiso si vive un clima di diffusa illegalità, tra abusivismo dilagante, violazioni di norme regolamentari, carenze strutturali e concessionari regime perenne di proroga, nonostante l'espletamento di una gara per l'assegnazione definitiva delle concessioni. Tutto ciò, per il parlamentare di Comiso, crea gravi turbative ostacolando la libera attività commerciale. Per l'esponente di Forza Italia, quindi, occorre intervenire quanto prima per ristabilire intanto le condizioni di normalità all'interno della struttura mercatale e poi ripristinando la legalità rispetto delle regole previste al regolamento, intensificando i controlli e incrementando le misure di sicurezza, disciplinando gli accessi da parte di venditori e compratori e, infine, conclude assenza, favorendo la libera contrattazione e il regolare svolgimento dell'operazione di mercato. Per discutere della proposta di legge sul dimensionamento scolastico, venerdì 6 novembre ci sarà un incontro al Comune di Vittorio, che è stata invitata la deputazione Iblea, promotore dell'iniziativa e il Presidente al Consiglio Comunale, Salvatore Di Falco. Il Presidente al Consiglio Comunale di Vittorio e Salvatore Di Falco ha scritto una lettera ai deputati regionali della provincia Iblea per invitarli all'incontro di venerdì 6 novembre a Palazzo Iacono sul tema del dimensionamento scolastico. Dal dibattito in corso al netto delle accese discussioni che l'argomento ha suscitato in città, afferma Di Falco, vi è indubbiamente una criticità reale e ai limiti del paradosso e su cui vi sono state condivisioni anche nel dibattito svoltosi in Consiglio Comunale tra le opposte posizioni. Un dibattito che ha individuato nella legge regionale 6 del 2000 la mancanza di una derega al tetto minimo degli alunni per la formazione o il mantenimento di un istituto comprensivo anche per le frazioni marinare che abbiano, dalmeno un quinquennio, già un istituto comprensivo. Per Di Falco quindi è pertanto un paradosso ai limiti dell'ingiustizia che la legge regionale siciliana non preveda le comunità marinare fra quelle meritevoli di deregue. Così come è paradossale, rimarca ancora il Presidente al Consiglio, che si prevedono dereghe per isole minori e comunità montane e non per le frazioni rivierasche. Di Falco, nella lettera, torna quindi a richiedere la presenza della deputazione Bria Palazzo Iancono per rappresentare le ragioni del piano, ma anche per consegnare formalmente la proposta di legge, restando naturalmente fiducioso, conclude Di Falco, in un corale interessa sull'argomento. Crisi e criticità bancarie. Serve un nuovo patto con il sistema del credito? E' questo il tema che sarà dibattuto domani, venerdì 30 ottobre, ore 19, presso la sede della CNA territoriale di Vittoria. Introdurranno la materia, il presente alla sede locale CNA Giuseppe La Terra, il dottor Davide Guastella, esperto in diritto tributario, e Giovanni Treina, responsabile sportello criticità bancarie di Vittoria. In merito al fenomeno randagismo a Vittoria, in particolare al recente episodio della presenza di una cagna malata nelle adiacenze al mercato di fiori, interviene oggi l'assessore Francesco Cannizzo, come assessorato alla tutela animali, dice, stiamo facendo tutto il possibile. Randagismo e tutela animali a Vittoria. L'assessore al ramo, Francesco Cannizzo, non si tira indietro intanto replica ai due giovani che, alla nostra emittente, hanno segnalato la presenza di una cagna malata presso il mercato dei fiori. La situazione è già sotto controllo, dice Cannizzo, grazie ad una volontaria, siamo alla ricerca dell'animale che, pari, si sia spostato. Quando lo troveremo, gli somministeremo le cure necessarie. Ai due giovani inoltre, che hanno denunciato il caso e gli organi di informazione, ribadisco la piena e costante disponibilità degli uffici del settore a prendere in carico le situazioni segnalate, come è già accaduto in passato. Cannizzo sposta poi l'attenzione sulla questione del randagismo, sollevata dai consiglieri Giovanni Moscato e Andrea Nicosia. Il fenomeno randagismo, rileva l'esponente di Giunta e Parino, è costantemente monitorato. Da tre mesi, infatti, tutte le situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini, sono state attenzionate e siamo intervenuti con la ditta che si è giudicata all'appalto per il prelevamento dei cani. Quindi abbiamo preso gli animali, sono stati microcippati, sterilizzati e portati nel canile di Piazza Armerina, sede della ditta in questione. Sono stati tutti interventi mirati, spiega Cannizzo, prelevandoci gli animali aggressivi e ritenuti pericolosi. Poi frecciatina finale. Inviti i consiglieri di Fratelli d'Italia, dice Cannizzo, non perdersi in chiacchiere da Bà e a documentarsi invece sugli interventi promessi e puntualmente realizzati da questa amministrazione comunale. A Ragusa il gruppo tecnico di valutazione per la telefonia mobile del comune si riunirà domani venerdì negli uffici comunali. L'organismo prenderà in considerazione la richiesta di riesame di vigilanza dell'antenna di telefonia mobile Vodafone situata in contrada a Gatto Corvino. Al tavolo sarà presente il portavoce del comitato intercontrato di Giuseppe Calabrese con una nutrita delegazione dell'organismo. Il governo regionale ha annunciato la costruzione di sei piccoli inceneritori per i rifiuti in Sicilia. Notizia che ha fatto registrare la presa di posizione polemica di Fareverde che si dice appunto contraria. Fareverde Vittoria scende in campo per parlare dei nuovi inceneritori che dovrebbero sorgere in Sicilia dicendosi contraria. L'associazione fa prima un'analisi della situazione rifiuti nell'isola dichiarando si fa un gran parlare di raccolta differenziata, scuole e cittadini sono pronti ad aderire ad una vera strategia rifiuti zero, ma il presidente della regione Rosario Crocette e le amministrazioni locali restano sordi ed inconcludenti. La nostra splendida isola, aggiunge Fareverde, è fanalino di code in Italia per la raccolta differenziata con un misero 5% e gli impianti di compostaggio sono ancora chiusi nonostante svariati milioni di euro spesi. Le direttive europee però parlano del 90% da raggiungere fra organico e frazioni secche, mentre i due impianti siti in provincia di Ragusa, di cui una vittoria, rimangono fermi al palo, quasi distrutti dall'inutilizzo. L'ultima beffa arriva dal governo di Crocetta che sta pianificando la costruzione di sei piccoli inceneritori che sorgeranno nell'isola, compresi i bacini territoriali di Ragusa e Siracusa. Siamo fermamente contrarie a queste scelte scelerate che vanno in controtendenza rispetto alle direttive europee e ad una proposta ecologica, dice Fareverde. I comuni siciliani, anche quelli virtuosi, di fatto saranno costretti a ricorrere agli impianti di trattamento meccanico-biologico gestiti dai soliti privati. Altro che raccolta differenziata e rifiuti zero, scrivono, milioni di euro ai signori della munnizza, multe dall'Europa per il nulla espresso dalla politica e tasse sempre più esose per i cittadini. Siamo, concludono, oltre l'assurdo. La Giunta di Vittoria ha deliberato l'acquisto di due pulmone destinati ad arricchire il parco mezzo e il trasporto urbano. Uno dei due pulmone è ecologico, alimentato a metano, mentre l'altro è mezzo turistico scoperto per l'acquisto di entrambi i pulmone, ha dichiarato il sindaco Nicosia. Abbiamo chiesto la devoluzione di un mutuo già acceso, ma per il mezzo ecologico abbiamo la possibilità di Nicosia di attingere ai finanziamenti destinati alla mobilità sostenibile. Il calcio, Ragusa e New Team avanti in Coppa Italia a promozione, gli azzurri pareggiano col Santa Croce, mentre i cugini sbancano il campo dell'Atletico Gela. Vanno avanti in Coppa Braccetto, Ragusa e New Team. Ieri turno di ritorno dei sedicesimi di finale con gli azzurri che hanno pareggiato in casa col Santa Croce, 1-1, ma grazie al 2-1 dell'andata accedono agli ottavi. La New Team invece è andata a vincere sul campo dell'Atletico Gela, vendicando in pratica la sconfitta subita due settimane fa in campionato. Per quanto riguarda la gara dell'Aldocampo, alla rete dei locali segnata da Grupposo, ha risposto Gugrieri per gli ospiti, i quali hanno lottato fino alla fine per arrivare a quel gol che avrebbe pareggiato i conti e prolungato la gara con i supplementari. Alla fine Ferro ha festeggiato il Ragusa, atteso ad essa la sfida al vertice, sempre all'Aldocampo, domenica contro l'Aragona. Acuto, come detto della New Team, sul campo dell'Atletico Gela, superato nel primo tempo e la rete della bandiera dei locali di Far Saperla è servita solo a salvare l'onore. Pochi avrebbero pensato alla vigilia ad un risultato del genere, alla luce soprattutto della recente gara a Casalinga degli Iblè in campionato contro lo stesso Atletico, vittorioso in quella occasione. Col turno di Coppa alle spalle, adesso si volta pagina e ci si rituffa in campionato, che vede finora la Nissa assoluta dominatrice e invece dall'altro parte il commiso assoluto perdente. Di verde-arancio sono alla quinta sconfitta in sette gare. Ma a preoccupare, oltre alle sconfitte, sono anche le continue defezioni e i tagli nell'organico. Infatti, dopo Turco, Chiovero, Cusumano e Lentini, ha lasciato la sede anche Cammarata, uno dei pochi che la porta la vedeva e per il tecnico Nicolosi è emergenza continua. Siamo al repilogo dei fatti in primo piano. Ritrovate ieri dai carabinieri di Caramonte Gulfi le due gemelle minorenne di Ragusa che si erano allontanate da casa. Hanno ammesso, davanti agli inquirenti, di essersi allontanate volontariamente. A denunciare a loro scomparsi i genitori ieri sera intorno alle 21. Pare che le due ragazze si fossero allontanate per poter trascorrere qualche ora con i rispettivi fidanzati che siano state ospitate dalle famiglie di questi ultimi. Controlli antidroga nelle scuole della provincia Iblea già da giorni sono iniziati controlli in alcuni stessi scolastici di Ragusa Superiore da parte della Polizia di Stato col supporto di unità cinofile. In particolare con la presenza del cane polizotto Alan che ha passato al setaccio, bagno, giardini e luoghi di ritrovo degli studenti. Importante anche la collaborazione di insegnanti e alunni per scongiurare il fenomeno stupefacente. No agli allarmismi sulle carne rossa lo ribadisce la situazione macellai di Ragusa e uno degli alimenti dicono più controllati e sicuri e gli operatori del settore sanno consigliare i consumatori. I nostri macellai, grazie alla loro professionalità di esperienza, affermano dall'associazione ragusana, sono in grado infatti di indicare alla gente regole semplici e chiare, come un consumo limitato alla settimana, oltre ad una giusta cottura. Illegalità dilagante al mercato ortofrutticolo di Comiso alla denuncia dell'onorevole Giorgia Assenza dopo la violenta aggressione di due giorni fa che si è consumata all'interno della struttura mercatale. Per l'esponente di Forza Italia occorre intervenire per ripristinare le regole della civile convivenza rispetto alle regole previste dal regolamento, in particolare intensificate in controlli e incrementando soprattutto le misure di sicurezza. Sul fenomeno randagisma Vittoria interviene l'assessore Francesco Cannizzo, come assessorata alla tutela animale dice, stiamo facendo tutto il possibile e anche orte, monitorando ogni situazione. Poi sulla segnalazione all'oste emittente della cagna ammalata al mercato di Fiori Cannizzo comunica che ne sta occupando una volontaria. Una situazione, dice, nel complesso sotto controllo per alleviare ogni disagio possibile alla popolazione. Possiamo chiudere qui. Grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni. Grazie a tutti. Grazie a tutti.